Babbo Natale esiste! Eccoci qua! Natale 2023! Come va? Tutto a posto? Buon Natale a tutti! Ecco, allora, io posso dire che sì, Babbo Natale esiste perché incredibilmente è stato portato qualcosa a casa mia. Sono stati mangiati anche dei biscotti, non so da chi. Comunque, Babbo Natale esiste, chiaramente, ovvio. E niente, colgo l'occasione per farvi a tutti Buon Natale! Con questo cappello strepitoso, numero uno. Ho purtroppo ricevuto delle lamentele per quanto riguarda il video degli Oscar. Un famoso youtuber si è lamentato, sì lo so, è una nota purtroppo negativa, si è lamentato dicendo che lui non ha vinto nulla e non gli sembra giusto. E quindi io decido di, come posso dire, riparare questo danno estremo con una categoria supplettiva, ossia, life coach dell'anno e creatore di youtuber dell'anno, Signore e signori, l'Oscar va a Giuseppe Siracusa. Tanti auguri! Scherzo Giuseppe, però mi sembrava simpatico. Che altro dire? Che però effettivamente mi sono dimenticato una categoria nel video ed è follower dell'anno. E il premio lo vincono a pari merito e io li metterò in ordine, rigorosamente alfabetico, per quanto riguarda il cognome, per cui vincono a pari merito follower dell'anno Fabio Losanto, L, e Alberto Mono, chiaramente. Due, follower, ma prima di tutto amici nella vita che sono sempre lì per me per darmi i consigli, eccetera, eccetera, eccetera. Uno è in Messico, mannaggia lui, l'altro è a lavorare purtroppo a Napoli e quindi è così. Dal mio cappello, dal mio maglione, ma soprattutto dal Black Bay Pro è tutto. Ci vediamo oggi, io non ho ancora il video, è lunedì oggi, sì. Quindi, in questa settimana finalmente usciranno i tre video dello stato della collezione che ho già fatto, ho già montato, ho già messo su YouTube e 27, 28 e 30 dovrebbero uscire tutti e tre. Infine, 31 dicembre, messaggio di fine anno e poi anche il 2023 ce lo siamo levati dai coglioni, ok? Ciao a tutti e buon Natale e mi raccomando. Ciao, ciao. Ciao.